Porto Santo Stefano In questo momento ci sono 13 cantieri aperti, tra tutto il territorio comunale, quindi anche Porto Ercole e gli spazi che c'è trappi a Porto Ercole. Qualcuno dice quasi che siamo in un dopoguerra da ricostruzione, non è proprio così, ci sono delle cose che in qualche modo sono capitate tutte insieme, quindi c'è un addensamento di lavori che stiamo seguendo costantemente e che speriamo per Pasqua di finirli la maggior parte. Ne abbiamo tre a Porto Ercole, due sulla strada tra Porto Ercole e Santo Stefano e poi altri otto qui in paese. Tutto pronto, o perlomeno così dovrebbe essere prima dell'arrivo della bella stagione che per questa fetta di Toscana è molto importante. Quello che avverrà alle nostre spalle ce lo può dire anche così, magari lo proviamo a immaginare? Certo, intanto diciamo che qui da noi la Pasqua è un momento importante perché tutti quelli che hanno le seconde case, l'argentario si vive sulle seconde case, tornano a Pasqua, riaprono la casa, vedono che c'è qualche lavoretto da fare e si preparano alla stagione. Quindi per Pasqua è importante farli vedere un paese vivo, organizzato, pulito, ordinato. La piazza è un po' il clou di tutti noi paesi della Toscana, la piazza è la piazza e qui la stiamo rifacendo completamente, aggiungendo come momento di arredo una spiaggetta. Non è che ora la piazza diventa spiaggia, questo è qualcuno che dice così ma non è vero. Ci sarà un angolo di spiaggia che poi non sarà neanche balneabile, sarà proprio un momento di arredo. Certo a vederla ora sembrerebbe bombardata, però diciamo che stiamo iniziando i lavori di ricostruzione, abbiamo fatto la demolizione, abbiamo fatto tutto il sotto e ora si tratta di rifinirla. Quindi da oggi in poi si inizia ad andare verso quella fase dove sono praticamente finiti i lavori in cemento armato e inizia la riqualificazione vera e propria. Quindi io sono abbastanza confidente che per Pasqua quest'angolo qui sia finito o quantomeno sostanzialmente finito. Quando si mette mano al look di un territorio è chiaro che qualche malumore, qualcuno che dice ma si poteva fare così, non si poteva fare cosà. Ecco perché queste scelte? Cosa vanno a migliorare? Ma certamente la critica c'è sempre, qualunque lavoro pubblico che si fa, c'è sempre qualcuno che aveva intravisto un'altra cosa come di maggior priorità. È chiaro che ognuno ha le sue priorità, giustamente. Ogni marciapiede di casa propria diventa la priorità perché quando esci trovi del marciapiede. Il comune deve riuscire a mettere insieme queste potenziali priorità e scegliere le proprie. Io penso che la piazza sia il luogo comune, noi abbiamo rifatto gran parte del lungomare, abbiamo iniziato da altre parti di Santo Stefano, le palme sul molo, la piazzetta appena si inizia, proprio all'inizio del paese. Rimaneva quest'angolo, che è un angolo che non era molto piaciuto ai santostefanesi, da sempre come era venuto l'ultima volta non c'era mai piaciuta. Diciamo anche che è un rischio, un rischio che io mi sento di cogliere perché sono convinto che verrà più bello e più funzionale. Certamente hai posto della sentenza, ora vista così ancora, però devo dire che all'inizio quando c'era grandissima contrarietà, ora che piano piano si intravede le cose stanno migliorando. Io spero che da qui a Pasqua appunto il consenso ci sia. Ma comunque noi non corriamo dietro il consenso, perché secondo me correre dietro il consenso vuol dire non fare niente, se dare retta a tutti non si fa niente, uno deve avere il coraggio di fare e poi si viene bene, è bene, si viene male. E questo è il compito degli amministratori, fare delle scelte. Allora lei si traveste un po' da capocantiere in questo periodo, piuttosto che da sindaco. Ecco, e allora l'aspettiamo però vestito da sindaco al taglio del nastro. Benissimo, perfetto, ci saremo. Alessandro Roncolini, delegato del Palio per il Comune di Monte Argentario, non è ancora primavera, ma insomma per quello che accade all'interno dei rioni ci si comincia a preparare per l'estate, per tutto quello che l'estate porta, per questa fetta bellissima della Toscana. Sì, come dico sempre io, per gli addetti a lavori è Palio 366 giorni all'anno, per i tifosi, diciamo così, e comunque gli appassionati un po' meno, ma comunque la febbre del Palio è sempre alta e viva e avanza verso gli appuntamenti ufficiali. Intanto cominciamo col dire che quest'anno il Palio ha organizzato insieme al Palio di Porto Ercole la seconda edizione, sta organizzando la seconda edizione del Carnevale dei Rioni all'Argentario, dove tutti i rioni si sfideranno in una sorta di sfida a terra, quindi non a mare, con una mascherata. Una cosa molto innovativa, nuova, dove abbiamo trovato grossa collaborazione sia sul Palio di Porto Santo Stefano e sia sul Palio di Porto Ercole. Poi, diciamo, parliamo di Palio Vero, quindi il Palio agonistico, dove tutti i rioni hanno completato gli equipaggi, si stanno allenando ormai da diversi mesi a terra, la famosa preparazione a terra, e poi da ora, dal prossimo mese, incomincieremo a vedere sicuramente le barche, quelle di proprietà dei rioni, solcare il mare nella preparazione invernale a mare. Questo vale sia per il Palio, quindi dalla gara principale, che per il Palietto, la gara AN del 23. Lo stesso, i rioni stanno anche ovviamente lavorando sulla proiezione poi della sfilata, quella importante, quella del 15 d'agosto. Quindi, insomma, grosso movimento e grossa operatività. Dal punto di vista, invece, amministrativo, stiamo facendo altre cose importanti. Ecco, insomma, è una fetta, dicevamo, questa della Toscana molto bella, che, come lei ha appena ricordato, non vive soltanto d'estate. Mi incuriosisce molto questo carnevale a terra, perché ora siamo in questo periodo e, insomma, noi seguiamo i carnevali della Toscana. Foiano, ad esempio, è uno di quelli, è il più antico. Ecco, anche loro, con le mascherate, insomma, fanno delle cose molto belle. Quindi è molto curiosa questo aspetto, diciamo. Sì, una novità che ci siamo inventati l'anno scorso, che ha avuto un buon successo. Quest'anno replichiamo, sto notando con molto più entusiasmo dell'anno precedente, che era l'anno zero, quindi con le dovute difficoltà. È l'ennesima sfida nella sfida, perché poi noi, per rendere importante, comunque rendere attiva e rendere partecipata la cosa, ci mettiamo sempre in mezzo la sfida fra i rioni, no? Che non manca mai. Ovvio che la sfida regina principale è quella in acqua, che si fa ad agosto. Però questa è una sorta, voglio dire, di sfida a terra, che crea gli entusiasmi, perché poi in paese si saprà che ha vinto X piuttosto che Y. Ovviamente il nostro è un carnevale che non ci vogliamo paragonare con i carnevali con la C maiuscola. Però stiamo facendo dei passi, perché poi alla fine quest'anno, a cospetto della variante dell'anno scorso, ci sarà la sfilata per le vie del paese e il finale una festa, diciamo, che andrà fino a notte inoltrata dentro un tendone, una tensostruttura, che monteremo proprio lì vicino alla piazza, perché proprio in piazza non si può, perché ci sono i lavori. Quindi ecco, insomma, è sabato, faremo prima, dalle tre in poi, una festa per i bambini, per i più piccoli, e poi dalle sei e mezzo i grandi, che si sfideranno in questa cosa, con festa finale. Quindi anche da noi possiamo dire che è il carnevale. Ecco, l'altra cosa che mi incuriosisce molto è che lei ha detto a livello anche amministrativo, stiamo facendo dei passi importanti, perché comunque mantenere queste tradizioni, queste manifestazioni, in un'Italia, ma in un mondo, diciamo, dobbiamo dire così, ormai globalizzato, in cui, si sa, insomma, i comuni sono sempre lì ad arrancare, a raschiare il barile, ecco, mantenere in piedi questo tipo di manifestazioni ci vuole davvero tanta passione, ma anche tanta capacità amministrativa. Quindi come si vincono queste sfide? Tanto il problema più grosso, come diceva lei, sono i soldi, come sempre. Soldi ce n'è sempre meno, ma il Comune di Monte Argentario sacrifica altre situazioni, per cercare di non togliere niente, diciamo, al palio, che è rimasta la manifestazione, diciamo così, di punta, perlomeno per quanto riguarda il versante nord del promontorio. L'amministrazione ci investe, ci investe denari, ma ci investe anche forze operative. Io sono delegato H24 365 giorni, delegato del sindaco, lavoro, oltre che per lo sviluppo della manifestazione 2017, anche, diciamo, per la prospettiva stessa della manifestazione. In questo abbiamo proprio il 10 venerdì è terminato la possibilità di iscriversi a un bando, ovviamente con nessun tipo di ritorno economico per i commissari, ma dove faremo una commissione che andrà a rivisitare totalmente lo statuto del palio, perché lo statuto del palio nasce negli anni 60, quello attuale, ha avuto diverse rivisitazioni importanti di gente che c'era, però è stato sempre fatto un lavoro a spot, diciamo, a secondo dell'evenienza del momento, ma mai una revisione globale dell'operazione. Ricordiamo che il nostro statuto consta 94 articoli, la Costituzione italiana 138, quindi insomma, alla fine forse è bene metterci mano per sintetizzare un po' di concetti e modernizzarli soprattutto. Tempi? Ma ai tempi, diciamo, ora ci sarà, proprio oggi dovrebbe uscire la lista di chi si è iscritto, perché abbiamo fatto un bando pubblico. Poi ci sarà una riunione, io, il sindaco, i capigruppo di maggioranza e di opposizione, quindi con tutto l'arco costituzionale, e vareremo questa commissione, che lavorerà quando sarà pronta, noi ovviamente ci auguriamo che questo avvenga entro l'anno, per poi fare i passaggi istituzionali. E' ovvio che questa revisione non si fa per fare questo palio che è imminente, ma di prospettiva. L'amministrazione inoltre, e questo lo diciamo ad alta voce, ha stanziato nel prossimo bilancio 100.000 euro che verranno dedicati a fare i guzzi nuovi del palio. Questi attuali hanno fatto la prima gara nel 76, sotto l'allora sindaco Susanna Agnelli. Hanno festeggiato i 40 anni lo scorso palio. Li mandiamo in pensione. Eh sì, è una giusta pensione meritata. Magari c'è l'idea anche, stiamo lavorando anche su questo, di fare un museo del palio, dove vorremmo esporre le vecchie barche. E quindi anche questa è un'operazione che costa, su cui stiamo lavorando. I cavitelli li abbiamo fatti nuovi due anni fa. Insomma, voglio dire, ci stiamo investendo tempo e soldi perché riteniamo che sia una cosa che dobbiamo curare, non potrebbe essere altrimenti. Allora, noi ci rivediamo magari nell'appuntamento imminente per il Carnevale, però poi seguiamo da vicino tutte queste sfaccettature che sono molto interessanti anche per come, no? Le manifestazioni stesse, non solo il palio, ma penso quasi tutte le manifestazioni dovrebbero un po' appunto rivedere se stesse alla luce della modernità. Assolutamente. Oggi siamo nell'era di internet, di Facebook, dei social network, della TV fatta in un certo modo e quindi il tutto si deve adeguare a un trend che è impossibile che possa rimanere al di là della tradizione storica con le regole o comunque con gli approcci di... Adesso TV ne è testimone. Abbiamo fatto questo esperimento durante il palio che era riuscitissimo delle riprese col drone sia l'anno scorso che quest'anno. Quest'anno parlo dell'ultimo palio appena trascorso e faremo anche quest'anno. E quella è stata sicuramente la novità delle novità in un adeguamento che qualche anno fa sarebbe stato impensabile. E questo fa parte di una prospettiva perché l'idea da parte dell'amministrazione è costruire questo famoso pacchetto palio per poi andarcelo, fra virgolette, a vendere a livello di promozione del territorio. Quindi con i piedi per terra, anzi, nella sabbia e nell'acqua ma si soffia nelle vele del futuro. Assolutamente sì. Sempre e comunque positive thinking, se si pensa positivo e la prospettiva può essere solamente di sviluppo e di bene per il nostro territorio.